Con Mr. Eddimengo, Mr. Vittorio Rodonda, importante in trasferta sul campo del Fiuggi, è il sesto risultato utile tra i vittori e i tre pareggi nelle ultime sei, una squadra in grande forma, oggi molto cinica, che ha capitalizzato benissimo le occasioni avute e poi ha gestito benissimo il triplo vantaggio. Sì, abbiamo fatto una bella prestazione, soprattutto di mentalità, di squadra, poi oggi siamo stati anche bravi a fare gol subito con Danny, che ci ha aiutato sicuramente per avere più tranquillità, abbiamo fatto un bel risultato, meritato, anche se, ripeto, un risultato abbastanza largo per quello che ha fatto vedere anche il Fiuggi, perché comunque ci ha messo in difficoltà, però siamo contenti, sappiamo che per arrivare alla salvezza dovremo soffrire tanto, la squadra ha nella mentalità ora di soffrire, poi abbiamo giocatori importanti che fortunatamente stanno facendo la differenza e riusciamo a portare a casa risultati buoni. Mi sembra che stiamo ancora nei play-out, significa che comunque tutto quello che stiamo facendo di buono in questo 2022 ancora non basta, poi domenica abbiamo pure il Trastevere, ci godiamo questa vittoria e da martedì cominciamo a preparare la prossima partita, perché non possiamo mollare assolutamente, perché le altre squadre mi dà l'impressione che non molla nessuno. Trastevere, grande squadra, Mistra, l'hai detto tu adesso, però comunque il Montegiorgio ha pareggiato partite importanti, penso al pareggio contro la Reganatesi, anche l'1-1 col Pineto controllava Stese, quindi è una squadra sicuramente in grande salute, in grande forma. Cosa è cambiato oltre al mercato, insomma, rispetto ai mesi precedenti? Sicuramente abbiamo giocatori importanti, faccio l'esempio di Marchionni e Zerbo che sono arrivati adesso, anche lo stesso Bertolo che è arrivato 15 giorni fa, più una base che già anche all'andata, secondo me meritavamo molti più punti, solamente che non riuscivamo a raccogliere, adesso invece stiamo raccogliendo un po' il seminato del girone d'andata. Sì, adesso abbiamo incontrato la Reganatesi, oggi il Fiuggi, domenica il Trastevere, il Trastevere è l'andata, mi ha dato l'impressione, di una squadra di un'altra categoria a confronto a noi, è un bel test da affrontare per cercare di migliorarci e ripeto, godiamoci questa vittoria perché è una vittoria secondo me importante e non scontata soprattutto e adesso poi prepareremo la partita con il Trastevere. Unica nota negativa oggi, mister, l'infortunio di Zerbo è uscito nel primo tempo, cosa è successo? Sì, è una caviglia bella gonfia, speriamo che non è niente di importante perché comunque lui è un giocatore importante sia in campo la domenica ma soprattutto durante la settimana, speriamo che lo ricopriamo il prima possibile perché oltre che un giocatore importante, ripeto, anche per il gruppo fa la differenza. Con mister Romondini, mister, che dire, dopo questa partita, una gara che avete giocato secondo me anche bene, poi gli avversari hanno praticamente capitalizzato tutte le occasioni che hanno avuto, è arrivata una sconfitta però vi è mancato sostanzialmente soltanto il gol oggi? Sì, sì, è un'analisi secondo me esatta, abbiamo avuto un approccio importante, un approccio giusto, abbiamo secondo me fatto una grossa prestazione dove abbiamo praticamente tenuto il pallino del gioco, ho giocato, ho creato occasioni e poi purtroppo non siamo riusciti a fare gol, a volte per l'avversario, a volte per imprecisione nostra e diciamo che nei gol dell'avversario abbiamo ogni tanto sbagliato singolarmente, quindi niente, naturalmente è difficile commentare una sconfitta pesante a livello di risultato, però credo che, anzi sono convinto del fatto che non posso essere naturalmente contento, ma sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, sono soddisfatto che ho visto una squadra unita, una squadra che non si è mai arresa, che ha corso fino al centesimo e poi che ha dato veramente tutto quello che aveva. Mister, rispetto alle due sconfitte contro Chiedi e San Benedetti, oggi ho visto un altro tipo di squadra, già mai fuori il fiuggino a un momento un po' di difficoltà dopo l'inizio dell'anno? Sicuramente non nascondo che è un momento difficile per noi, naturalmente nelle ultime tre partite ho preso otto gol, quindi credo che devo sicuramente analizzare gli errori e devo cercare al più presto di migliorarli, migliorarli e di magari azzerarli, quello è un dato di fatto perché poi alla fine in queste ultime tre partite i numeri parlano chiaro, però ecco, nelle ultime due partite che abbiamo fatto devo dire che la prestazione c'è sempre stata, gli episodi ci hanno condannato perché magari nell'episodio specifico il giocatore avversario magari è stato più bravo del nostro, però ecco, diciamo che non mi esalto mai per le vittorie, naturalmente non mi abbatto mai per le sconfitte, naturalmente tenendo conto di quello che sta accadendo e tenendo conto che stiamo attraversando un periodo difficile a livello di risultati, non di prestazione. Prossima gara, mister contro il Tolentino, la zona playoff è comunque ancora alla vostra portata, anche le due batti stradari, i canadesi e tre stevere sono sempre lì, qual è il tuo obiettivo per le prossime partite? Allora, il mio obiettivo è la prossima partita, perché noi abbiamo un motto che è una partita alla volta e quindi niente, la prossima partita l'analizzeremo già da stasera, naturalmente mi riguarderò la mia con attenzione, anche se ce l'ho bene in mente la gara di oggi, soprattutto la prestazione che devo esaltare, anche se sembra assurdo per il risultato, ma la devo esaltare, perché ripeto, abbiamo avuto tante occasioni, mi sembra che abbiamo battuto 11 calci d'angolo e altre tante punizioni, quindi due punizioni da limiti importanti, quindi voglio dire, sembrerò un folle, ma sono soddisfatto di questa prestazione e mi guarderò prima la mia partita, analizzando i miei errori commessi oggi e dopo penserò alla prossima.